Siamo arrivati con un prodotto del nostro vivaio, ma è un piacente e vi stile meglio del piacente, è una bella responsabilità? È una roba da matti, c'è molta responsabilità. Non parlo più in gallota, preoccupatevi. Non riesco a parlare italiano, ci sono molte responsabilità, però ci siamo certi che ci sono molte responsabilità e cerchiamo di far bene. Senta, con il tuo compagno di tutti i posti, con il Duzman che si deve andare a vivere? È stato molto duro per adesso, abbiamo praticato molto, però ci sta, ci sono messo nelle gambe molti carichi e fino a dicembre cerchiamo di fare il massimo e poi metteremo ancora nelle gambe degli altri carichi. Siete, di giugadori noi, che ti ha impressionato per sé? Mi ha impressionato molto, vabbè, panica, una scoperta e molto Mattia Bovi, il centrocampista. A volte in dispogliatoio c'è un bel clima, di scherzo eh? Ho visto che ci sono quei due che stanno diventando un cavallo con la scherzo. Sì, sì, siamo già uniti tutti, abbiamo trovato l'unione, quindi è una cosa molto importante in un dispogliatoio avere il gruppo. Bene, grazie, in bocca al lupo e Markman forza piace. Forza piace. Forza piace. Grazie. 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 Grazie.